Adesso c'è forse l'argomento più intenso della diretta di oggi perché parliamo di una scoperta fatta a Pompei proprio in questi giorni, è stata fatta in questi giorni, scusate, in questi appunto stamattina è uscita la notizia. Allora, a Pompei sono stati ritrovati due corpi intatti e appunto dicevo la notizia fresca di questa mattina, 21 novembre 2020, sono stati scoperti due corpi a Pompei, come sono stati scoperti tutti gli altri corpi nel corso del tempo e degli scavi, sono stati ritrovati in uno stato di conservazione talmente importante che appunto gli archeologi e gli antropologi hanno potuto addirittura vedere e fare il calco delle pieghe dei vestiti. Poi considerate anche il fatto che appunto il padrone, allora si pensa che si tratti, anzi in realtà è anche abbastanza assodato, che si tratti di una sorta di magistro o di un commerciante di alto rango della Pompei del 79 avanti Cristo, di circa 40 anni e del suo fattore, insomma, del suo ragazzo di bottega. Questo perché appunto questo uomo che sembra essere il più grande, si dice, pare abbia più o meno 40 anni e indossava una sorta di copriabito di lana per ripararsi dal freddo. Questo è un ulteriore punto a favore dell'idea che ci si era fatti che appunto il disastro di Pompei si è avvenuto in autunno, più nello specifico la notte tra il 24 e il 25 ottobre e non il 24 agosto. Questo in realtà si era pensato anche da tantissime altre cose, ovvero dai braceri trovati nelle case e anche dalla frutta, ovvero dai fichi secchi trovati appunto sempre nelle case e nelle botteghe e da un'altra serie di fattori appunto che indicavano che fosse un periodo autunnale. E questo anche il fatto che si tratti di un, appunto, di un commerciante di alto rango oppure di un magistro si pensa anche dalla scoperta che era stata fatta nel 2017 dei, diciamo, dei resti, o comunque, dei resti di tre cavalli uno dei quali era sellato con questa sella particolarmente raffinata e si pensava appunto che fosse stato appena sellato con quella sella perché appartenente a una persona di alto rango e perché fosse in procinto di scappare. Ok, allora, fin qui ci siamo. Allora, appunto, sono stati fatti i calchi di questi due corpi e appunto sono in fase di studio. Ok, li stanno studiando perché appunto, ecco, la scoperta è veramente di ieri, ieri, l'altro ieri, proprio recentissima, davvero. E questa scoperta è stata commentata ovviamente dal ministro dei beni culturali, Dario Franceschini, che l'ha definita stupefacente. Poi c'è anche il commento del direttore del parco archeologico e direttore generale dei musei, il dottor Massimo Sanna, che ha commentato la scoperta definendola come un ritrovamento eccezionale. E sempre il dottor Sanna, appunto, ha in realtà rilasciato anche una dichiarazione un po' più lunga su questo ritrovamento e questa dichiarazione ve la leggo. Allora, le ultime settimane sono state febbrili. Abbiamo avvertito la presenza di vuoti nella coltre di materiale piroclastico e da lì la sorpresa dei resti umani. C'erano le condizioni ottimali per provare a ottenere il calco delle vittime e l'esperimento è pienamente riuscito. Allora, quindi, ecco, si stanno veramente facendo delle scoperte impressionanti in questo senso, ma io vi chiedo, voi cosa ne pensate, nello specifico di questa scoperta recentissima? Poi considerate, ecco, che la zona dei ritrovamenti in realtà si tratta della villa Civita Giuliana, che è questa struttura di epoca augustea, che si trova a circa 700 metri nord-est fuori dalle mura di Pompei. Allora, i primi scavi a Pompei risalgono all'inizio del Novecento. Poi nel 2017 appunto ci sono state la scoperta dei tre cavalli nella stalla appunto dei cavalli e appunto, ecco, a gennaio di quest'anno erano iniziati gli scavi che poi, ecco, ad oggi hanno portato a questa scoperta. E' veramente pazzesco secondo me, no? Pompei sarà sempre una scoperta che sa quanti pezzi di storia ce l'ha ancora, ce l'ha ancora, meraviglia assoluta. Sì, devo dire, secondo me ha ancora tantissime altre cose da dirci Pompei in realtà, eh. I primi scavi in questa zona, ma Pompei fu scoperta molto prima. Sì, 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 no, la scoperta di Pompei è molto, è molto, in realtà è molto antica, antica, insomma, è abbastanza datata come scoperta quella di Pompei, eh, quello è chiaro. Però ecco, gli scavi, sì, sì, è vero, no, no, gli scavi sono, intendevo gli scavi della zona, sì, sì. Le prime scoperte di Pompei risalgono al XVIII secolo. Sì, 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 no, è, mi ero dimenticato io di dirlo, sì, sì, sono gli scavi proprio della zona, della, di questa zona specifica di Pompei, sì, sì. E, quindi, ecco, allora, voi cosa pensate di questa ulteriore scoperta, eh, fatta in questi giorni? Allora, eh, personalmente posso dirvi che, eh, io credo in realtà che, eh, Pompei abbia appunto una storia ancora molto, molto lunga da raccontarci, ecco. Perché appunto, mh, oltre che come colonia romana, ha, anche come civiltà vera e propria. Quindi penso che abbia una storia ancora molto, molto lunga da raccontarci. E, personalmente, ecco, sono contento che, eh, in una zona come il Sud Italia, che personalmente adoro, eh, perché ha una storia, eh, una popolazione, delle tradizioni, un folklore fantastico, che io adoro alla follia. Però, ecco, io appunto, mh, credo che ci siano dei problemi oggettivi che, eh, vanno risolti. E se questi, mh, se un aiuto a risolvere questi problemi possono essere, appunto, i fondi ricavati dalla cultura, io sono ben contento che, appunto, eh, si investa, appunto, anche così tanto in queste, in queste, in queste circostanze. Soprattutto sugli scavi di Pompei, mh, anche perché, ecco, insomma, poi sono, in realtà, anche molto, molto contento che si investa, eh, nella cultura, eh. Perché poi, eh, insomma, in realtà è una parte fondamentale, penso, di ogni popolazione, no, di ogni civiltà, eh, appunto, lo studio della cultura, no? Visitate Pompei è una cosa da fare, assolutamente. Chi non ci è andato, ci vada appena può. È davvero un'esperienza da fare. Assolutamente sì, perché poi, ecco, è un'esperienza, ecco, che io ci sono stato, eh, non l'estate di quest'anno, ma l'estate del 2019. Una giornata intera a Pompei è stato meraviglioso, davvero. Insomma, mh, poi, ecco, eh, è un viaggio nella storia, nel senso stretto del termine, veramente, mh, calpesti la storia, la, la vedi con i tuoi occhi, cioè, mh, è veramente, mh, veramente, eh, un'esperienza da fare, assolutamente. E, nel caso specifico della scoperta di oggi, eh, l'esperto massimo, secondo me, di, eh, di, mh, di questi argomenti, ovviamente, ha scritto. Sto parlando di Alberto Angela, e ha scritto un post abbastanza lungo, in realtà, che però, eh, ci tengo a leggervi, perché, secondo me, eh, fondamentale anche per fare un po' una ricostruzione. Cioè, lui, eh, ha fatto una ricostruzione di, mh, della possibile provenienza di questi due, mh, corpi ritrovati. E, appunto, eh, ve lo leggo. Vi ripeto, è un po' lungo, però, vale veramente la pena, perché Alberto Angela, quando parla, è un altro che, dobbiamo stare in silenzio, secondo me. Allora, è un improvviso tuffo nel passato, come solo Pompei riesce a fare. La notizia della scoperta di due nuove vittime dell'eruzione ci riporta a quell'antica tragedia, con sempre più dettagli. In attesa di pubblicazioni e studi approfonditi, è possibile inquadrare questo ritrovamento nella sequenza di fatti avvenuti nella tragedia di Pompei, e capire gli ultimi istanti di vita dei due? Probabilmente sì. La scena, infatti, fissata nel tempo, avviene in un momento preciso dell'eruzione. Proviamo a tornare a quelle terribili ore. I due uomini, un ragazzo e un quarantenne, si è ipotizzato un padrone con il suo schiavo, sono riusciti a sopravvivere a gran parte dell'eruzione, scoppiata improvvisamente all'ora di pranzo del giorno precedente, il 24 ottobre. Tutta l'area di Pompei è stata gradualmente sepolta da una grandine di pomici e lapilli. I tetti continuano a crollare per il loro peso, uccidendo molte persone. Altre, invece, sono ormai intrappolate in casa. A Pompei o fuggivi subito o era troppo tardi, perché già dopo un'ora e mezza le vie e le campagne erano completamente coperte da uno strato di lapilli, che impediva di procedere e persino di vedere i tracciati delle strade. Una fuga comunque difficile anche per il pulviscolo vulcanico, in sospensione che irritava la gola e i blocchi di pietra vulcanica che cadevano dal cielo come proiettili. I due, come tanti altri, sono rimasti in casa, ad aspettare. Nel loro caso si trattava di una splendida villa appena fuori le mura di Pompei, con dei cavalli già sellati, segno che si aspettava una guiete per scappare? Chissà. Torniamo a quei momenti. I due sono impauriti e molto stanchi. Hanno superato una notte d'inferno con forti scosse di terremoto, boati del vulcano, urla di chi nei dintorni cercava un congiunto o anche solo la salvezza. L'assordante crepitio della pioggia di pomici sulle tegole si è fermato intorno a luna di notte. La città ormai è già per metà sepolta e sembra un transatlantico che affonda. Ecco perché a Pompei si è conservato bene il pian terreno e a volte il primo piano della città. Cosa fare? Probabilmente la cosa migliore è aspettare la luce. Con l'alba si proverà a mettersi in cammino. Quasi certamente il sole che sorge è appena visibile attraverso la spessa coltre di ceneri sospesa nell'aria. Fa freddo. Il fatto che uno dei due uomini sia stato ritrovato con un pesante mantello di lana è un'ulteriore conferma, corroborata da una miriade di altri indizi, dai braceri nelle case, ai datteri e ai fichi secchi, al vino già sigillato nei dolia, le botti in terracotta, che l'eruzione è avvenuta in autunno e non ad agosto come si è sempre erroneamente ipotizzato. Non sappiamo se i due abbiano in mente di andare via o se debbano rimanere di guardia alla villa. È comunque troppo tardi per tutti. La colonna eruttiva che sale per decine di chilometri in cielo si è stancata, ha perso di energia e inizia a sedersi su se stessa più volte, trasformandosi in una serie di valanghe ustionanti verso valle. Già durante la notte lo ha fatto e uno di questi flussi piroclassici, come li chiamano i vulcanologi, ha investito a 100 km all'ora e a 600 gradi la città di Ercolano, uccidendo chiunque abbia incontrato. A Pompei, forse perché più distanti, i flussi che arrivano hanno un po' meno forza, i vestiti delle vittime non vengono strappati e meno calore, le carni non esplodono, ma sono ugualmente mortali. Forse anche i due uomini che hanno visto giungere verso di loro quella apocalittica nuvola grigia ribollente, alta quanto una collina. Hanno cercato riparo nel passaggio coperto della villa, criptoportico, nei pressi del quale li hanno rinvenuti? È possibile. È una scelta estintiva. Gli archeologi e gli antropologi che li studiano, ai quali va tutto il nostro plauso, ci diranno nel dettaglio cosa hanno scoperto. Se i due sono morti come tante altre vittime di Pompei, allora probabilmente sono stati avvolti da una violenta nuvola densa di ceneri e gas che ti accega e entra nelle orecchie, nel naso, in bocca. La morte è atroce. Le tue vie respiratorie sono intasate, di ceneri impalpabili come il talco, mentre alcuni gas ti aggrediscono le mucose, come la nitrite solforosa che si trasforma in un acido solforico. Uno dei due uomini ha le gambe divaricate e un po' flesse, con le braccia piegate come quelle di un pugile. Una posa tipica delle vittime di alte temperature. La loro incredibile conversazione è dovuta al fatto che sono stati sepolti al momento della morte, o sepolti vivi mentre morivano, dalle ceneri finissime dei flussi piroclassici e sigillati per sempre. Quasi si trattasse di colata di cemento che ne ha fatto l'impronta perfetta. Con i mesi e gli anni, i tessuti molli sono scomparsi, lasciando solo un vuoto nel terreno con le ossa. Ho parlato con alcuni archeologi che in passato hanno scoperto altri corpi. Mi hanno descritto l'emozione di vedere aprirsi un piccolo pertugio nei sedimenti quando scavano. E capire che, forse, è proprio ciò che rimane di una persona. Bisogna agire rapidamente. Si gola del gesto che riempie l'impronta vuota della vittima, come se si riempiesse una bottiglia vuota. Si aspettano poi alcune ore, che tutto si asciughi e con delicatezza si rimuovono tutti i sedimenti attorno. Ciò che vi appare è il calco del corpo della persona, così perfetto che si vedono le pieghe dei vestiti o i capelli. Sembra una statua. Vengono spesso definiti corpi e molti turisti fanno commenti irriverenti e selfie. Ma ricordo sempre che si tratta di persone e nel momento in cui la vita li abbandona, ci vuole rispetto. La nuova scoperta sottolinea la ricchezza del nostro patrimonio, non solo archeologico, ma culturale in generale, che deve essere tutelato e valorizzato perché tutti, oggi come in futuro, possano goderne. In particolare ciò che vale per Pompei, che tanto ha ancora da insegnarci e ogni volta riesce a sorprenderci. Ok, questo è il commento di Alberto Angela che vi ho riportato per intero perché in realtà ho detto appunto quando parla il maestro è la fonte più affidabile che possiamo avere. E questo è il riassunto perfetto della scoperta che è stata fatta in questi giorni e di quello che potrebbe essere successo. Voi che ne pensate?